Desidero informarvi ufficialmente che poco fa ho comunicato a Hitler che entro il 10 giugno l'Italia è pronta a entrare in guerra a fianco della Germania. Vostra eccellenza ha ricevuto i miei rapporti, quindi conosce bene la nostra impreparazione militare. Non siamo pronti. La guerra è quasi conclusa, finirà entro tre o quattro mesi. Lassiamo da parte i problemi militari e pensiamo ai vantaggi politici. Ma eccellenza! Quando la guerra sarà finita dobbiamo stare dalla parte dei vincitori e avere la nostra parte di gloria e di guadagno. Ma per arrivare a questo obiettivo ho assolutamente bisogno di alcune migliaia di morti. Subito! Soltanto così potrò sedere al tavolo della pace e potrò negoziare da una posizione di forza. Mi capite?